Guadagnare denaro è difficile, la maggior parte di noi deve svolgere lavori che non ci piacciono solo per permettersi di cavarsela durante il mese. La strada per una vita prospera è a volte facile come innamorarsi però, infatti se sposerai questa donna ti verrà assegnato un patrimonio di oltre 100 milioni di euro. Questa offerta non è nemmeno la più alta e non si tratta di un matrimonio combinato, si tratta di sposare una donna che puoi conoscere in anticipo e so cosa stai pensando, sicuramente c'è qualche tipo di trappola per essere pagato così tanto. Ebbene, esiste un motivo particolare che spiegherò un pochino più tardi però. Ma mettiti prima nei panni del padre, tutti possono immaginare la sensazione di volere che i figli trovino qualcuno di speciale, qualcuno che li renda felici quando non possono più farlo i genitori. Questi uomini però potrebbero aver portato le cose un pochino lontano, insomma le loro figlie sì sono single ma non vogliono sposarsi e i padri però sono disposti a pagare cifre incredibili a chiunque voglia sposarsene. Molte di queste donne, al contrario di quello che potresti pensare, non sono brutte, anzi sono molto belle e il fatto che verresti pagato per sposarle sembra qualcosa di fuori da questo mondo. Ora però bando alle ciance iniziamo subito a vedere chi sono queste donne. Numero 1, Karnsita Rodong Questa donna di 26 anni è single e non devi pagare per sposarla, al contrario di tutte quelle mogli russe via posta che cercano di venderti sui siti sconci. Aaron Rodong, di 58 anni, è il proprietario di una fioriente fattoria di Dorian. Sono quei frutti puzzolenti che vedi nelle bancarelle del mercato dei paesi sud-est asiatici e ne contempli sempre l'acquisto, solo per fare uno scarto di un amico magari. Rondong ha pubblicato annunci sui social media alla ricerca del futuro marito di sua figlia, offrendo fino a 10 milioni di bahat tailandesi, ossia circa 300.000 euro. Chiunque fosse disposto a mettere un anello alla mano della figlia avrebbe ricevuto immediatamente questi 300.000 euro. L'annuncio specifica inoltre che il destinatario della ricompensa sarà anche dotato del controllo della sua fattoria Dorian dopo la sua morte. In pratica, chiunque sposasse sua figlia erediterebbe ben presto un patrimonio di non solo 300.000, ma milioni e milioni di euro. Rondong è disposto a rinunciare a tutti i suoi beni materiali per aiutare sua figlia Kansita a Rondong a trovare un buon marito. Kansita parla fluentemente l'inglese e il cinese, è vergine e non ha mai avuto un fidanzato. Già, se pensi di candidati però sappi che Rondong non è aperto a chiunque faccia domanda. Infatti ha certi criteri specifici per i candidati. Vuole che qualcuno si occupi della sua attività e la faccia durare nel tempo. Non vuole una persona con una laurea, un master o un filosofo qualsiasi. Vuole un uomo diligente. Vuole solo qualcuno con un atteggiamento laborioso. Qualcuno che non se ne stia lì con le mani in mano. La figlia in questione, Kansita a Rondong, non è così strana come potresti pensare dopo aver scoperto che suo padre vuole commercializzare il suo matrimonio online. La ragazza infatti ha scoperto per la prima volta il post di suo padre quando gliel'ha mostrato un suo amico. La donna dice di essere rimasta piuttosto sorpresa se non scioccata. Ma a quanto pare riesce anche a vederne in l'auto divertente. Infatti non si preoccupa tanto di questi annunci. Si scopre infatti che Kansita vuole i soldi di suo padre. In particolare vuole usarli per andare in Corea per sottoporsi alla crilogia plastica. Ma il padre ovviamente continua a dirle di no. Numero 2 Josie Ho Si tratta della figlia del magnante dei casinò di Macao, Stanley Ho. Stanley Ho è stato classificato al numero 488 nella lista di miliardari di Forbes nel 2010 con un patrimonio netto di oltre 2 miliardi di dollari. Josie, 38 anni, è una famosa cantante e attrice di Hong Kong. Ha ricoperto più di 45 ruoli dal suo lancio a metà degli anni 90. È una spicca nel settore a causa dei ruoli difficili che assume. Deve essere una sfida, dice lei. Al New York Times infatti ha detto che gli piacciono le donne forti, moderne e indipendenti. I ruoli psicologici mi attraggono, ha detto. Mi piace intraprendere un ruolo emotivo. Josie è tecnicamente sposata con il musicista e regista Conry Chan Shin-shun del 2004. Insomma, si tratta di una donna intraprendente e con un grandissimo patrimonio. Nel 2006 suo padre pensò sarebbe però stata una buona idea mettersi alla ricerca di un erede più valido e voleva che l'erede del suo patrimonio fosse anche il marito quindi di sua figlia. Purtroppo la donna non vuole risposarsi e lasciare suo marito. Non vuole nemmeno sentirne parlare. E proprio per queste differenze si è trasferita a Hong Kong. Ovviamente gli uomini che si sono fatti avanti a tratti dal luccichio di oltre 2 miliardi di dollari non sono pochi. Sicuramente è una fortuna che farebbe gola a chiunque. Come detto prima, non esistono solo le gold digger donne. Ci sono anche i gold digger uomini. In ogni caso, al 2019, la donna è ancora sposata con il suo primo marito e non ne vuole sentire di sposarsi con qualcun altro. Oggi continua la sua carriera da attrice e cantante e il padre si era assegnato. L'offerta infatti non è più valida in realtà dal 2009 quando il padre si era ritirato dalla ricerca per concentrarsi sul suo business che era in difficoltà a causa della crisi finanziaria. Insomma, sposereste questa donna se ne avreste l'opportunità. Numero 3. Gigi Cho Perché qualcuno ha offerto oltre 128 milioni di euro per sposare una donna in particolare? Si tratta di questa donna ed è una storia insolita perché è la famiglia della donna che era disposta a pagare così tanto lo sposo piuttosto che il viceversa. Si tratta di Gigi Cho ed è la figlia del magnente miliardario di Hong Kong, Cheshul Chow il quale afferma che sua moglie è un'attraente giovane femmina. Potresti ritrovarti piuttosto confuso a grattarti la testa vedendo la sua offerta altissima e magari anche incline ad accettarla ma non è così semplice perché devi sapere alcune cose. Nel 2012 suo padre ha appreso che sua figlia di 33 anni era andata in Francia per sposare Xin Yong che era stato il suo videnzato per 7 anni. Il problema è che Xin Yong nella foto qui è in realtà una femmina. E ovviamente suo padre non poteva accettare che sua figlia fosse lesbica poiché chiaramente esiste ancora una stigma sociale contro l'omosessualità piuttosto forte in Cina. Alla fine ha messo su una cosiddetta offerta generosa per il matrimonio. Un'offerta da 500 milioni di dollari di Hong Kong in base al tasso di cambio di quel momento equivalevano a circa 50 milioni di euro. La cifra è aumentata a un miliardo di dollari di Hong Kong nel 2014. Purtroppo nessun concorrente ha avuto successo. Gigi è irrimovibile e sa di essere davvero una lesbica. Suo padre aveva deciso di raddoppiare l'offerta e questa volta con il tasso di cambio all'epoca valeva 122 milioni di euro. Il magnante ha persino detto al giornale malese Nanyang che Gigi era ancora single dato che rifiuta di credere che sua figlia abbia sposato un'altra femmina. Inoltre crede che non sia troppo tardi per sua figlia cambiare idea. Nessuno ha ancora completato la sfida di convertire le sue preferenze sessuali e non credo che qualcuno alla fine ci riuscirà. Cecil purtroppo, per voi che stavate pensando di intraprendere questa difficile sfida ha ritirato la sua offerta dopo che Gigi ha scritto una bella lettera aperta diretta a tutti quanti nella quale diceva che rispettava suo padre. Gigi lo vede come un modello da seguire e che sa che suo padre vuole soltanto il meglio per i suoi figli. Così è anche per lei. Tuttavia ha detto che avevano aspettative diverse quando si trattava di relazioni. Gigi ha avuto relazioni passate con uomini uomini ma sono state tutte di breve durata. Con Sean Gigi è finalmente felice e a suo agio. Si rammarica che Cecil non capisca quanto sia felice con sua moglie ma crede che non ci sia bisogno che approvi le reciproche relazioni di altre persone. Spera che suo padre possa trattare Sean come un normale essere umano dignitoso e infine ha chiarito che non era lesbica a causa della carenza di bravi uomini a Hong Kong. Oggi Gigi Chow è un'icona cinese LGBT elogiata per aver messo in evidenza la questione degli LGBT nella nazione in gran parte conservatrice di Hong Kong e sebbene nessuno abbia incassato l'offerta di 128 milioni di euro questo dimostra soltanto che non si può dare un prezzo a nessuna persona e soprattutto non al diritto di amare chiunque si desidera. Quindi pensi che ci siano dei benefici nel pagarti una sposa? E se sì, quale prezzo sarebbe quello ideale? O pensi che in realtà dovremmo essere più severi con queste cose e far rispettare la legge come si deve? Infatti queste cose hanno implicazioni sociali, economiche complesse a seconda della società e delle leggi ma anche delle usanze prevalenti in un paese. E questo mi incuriosisce parecchio su quali siano i tuoi pensieri quindi se vuoi condividerli per favore scrivi un commento qua sotto lascia un mi piace se questo video ti è piaciuto un non mi piace se invece non ti è piaciuto per niente iscriviti se sei nuovo al canale attiva la campanellina delle notifiche per non perdere nessuno dei prossimi video e se vuoi vederne un altro ti consiglio di guardare uno di questi due che ti consiglio qua sopra noi come sempre ci vediamo nel prossimo che vedrai e vi ricordo che esce un nuovo video tutti i giorni ciao Grazie a tutti.